Simone è stata una lotta dall'inizio alla fine, avete dato tutto in campo, ora si torna a Verona con un punto conquistato. Torniamo a casa con un punto e con il morale molto alto, perché siamo venuti a Spezia, sapevamo che era una partita difficile, per noi era fondamentale oggi portare a casa un punto o non perdere. Ci siamo riusciti, abbiamo lottato su tutti i palloni e abbiamo dimostrato che ci siamo. Ci racconti quella parata su Amian allo scadere che di fatto ha siglato il risultato sul definitivo 0-0? Non saprei neanche che dirti, è stata istintiva, ho visto la palla che andava, mi sono mosso e mi sono lanciato e ho detto speriamo che la prendo. E ce l'hai fatta? Sì, per fortuna sì. Oggi per te era l'esordio Serie A, possiamo dire un esordio non banale, una partita importante. Sei soddisfatto della tua prestazione, della partita, di com'è andata? Oggi è la partita più difficile che c'era durante l'anno per il Verona, sono contentissimo. Sì dai, ho fatto quello che dovevo fare, ho rischiato il meno possibile, quindi sono contento. Ora si torna appunto a Verona come dicevamo prima, la prossima partita sarà un altro match importante in casa contro il Monza domenica prossima. Adesso per noi sono tutte finali, qualsiasi sia la squadra che incontriamo, per noi sono tutte finali, tutte partite della vita, che non possiamo più perdere punti se vogliamo arrivare al nostro obiettivo. Grazie. Prego, ciao ragazzi.